Allora, disse, scrive, no prima una notizia, aspetti, non mi bruci la, me non sono scritto il lancio stamattina, ma no perché mi hanno, credo è un lancio questo? Aspetti un attimo, si lascia sorprendere dalla vita Roberto, stia a sentire, disse, guarda io non scrivo mai nulla, ma stavolta l'ho dovuto appuntare che sono parole sue, non sono mie, Amo il presente, il passato, amo il passato, accetto il presente, temo il futuro, adesso guardi qua, signore e signori, Roberto Gervaso, non me la poteva bruciare questa Io ho ricevuto stanotte alle 2.22 una telefonata dalla segreteria del premio Pulitzer, che l'è stato assegnato Ma smetta che io, ma guardate qui che io stavo anche, ero lì pronta Lei è la migliore intervistatrice che ho incontrato, qualche volta è migliore di me e questo non glielo posso perdonare perché io sono invidiosissimo Gervaso, c'ho le palpitazioni, detto questo, lei già, c'ha già tutto pronto, no no, io sono contro il parma, ci faccio un bel respiro Che c'ha, che mi offre? Che spaccia? Broma Zepan Eh no, no, troppo forte per me No, 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 respirazione, diaframma e si va Un minuto, ma che diaframma, ma che diaframma, dove lo trovo? Gervaso, faccia il bravo, che la trovo in forma splendida, meglio dell'altra volta In firma splendida, vorrei dire Ecco, come vuole lei, stia a sentire una cosa, perché uno come lei teme il futuro? Che c'ha da temere lei? Io ho 78 anni E allora? Vivo una vita postuma, reggo l'anima con i denti e muoio al dettaglio Capirete, stamattina la vedo dura, la vedo dura, venti minuti con Gervaso così Senta Roberto, le posso dire una cosa? Io invece ho fatto un altro sogno stanotte Io ho detto, chissà se riuscirò a smascherare Gervaso, perché io mi credo in tutta umiltà Credo che lei La sua o mia? La mia ovviamente Credo in tutta umiltà, siamo chiari Che lei non ci è, ma ci fa Io penso che lei voglia disperatamente da 50 anni a questa parte apparire diverso da quello che è Anche da più di 50 anni Io sono gentile, perché poi da prima non potevo seguirla Perché io essendo insoddisfatto di me, da bambino, ho cercato di essere un altro Ma non le dico la fatica Lei credo Quando ci sono riuscito ad essere un altro, ho rimpianto quello che ero Chi è il vero Gervaso? A 78 anni lo può dire a noi? È quello, guardi Bellissimo Ma dove sta? Dove sta? Eh, ce l'abbiamo alle sue spalle, non si giri tra un Ma guardi, guardi lì Sembravo Gregory Pecche giovane Lei è disperatamente legato a questa immagine, è vero? E ha visto la decadenza Ma quale decadenza? La testa è rimasta la stessa La decadenza fisica, ma non morale e neanche mentale Però avevo, ero veramente Mi fecero, quando avevo quell'età Mi fecero sirenetto Addirittura Sirenetto a Sanremo Mister Sanremo Adesso mi farebbe, ormai ho un fisico da Babbo Natale E la testa è rimasta la stessa La testa è rimasta tale e quale E questo non so se è un mare o un male Con l'esperienza sterminata che io ho avuto nella mia vita E questo Almeno ho girato il mondo, ho conosciuto il mondo, ho intervistato il mondo Ne ho fatte di cotte e di crude E ne ho viste di crude e di cotte Chi è Gervaso? Chi è Gervaso? Gervaso è un essere superiore Tenetevi forte E' un essere superiore Che non si rende sempre conto della sua superiorità E quando non si rende conto della sua superiorità Rivela un'umiltà che lo rende ancora Non si può dire più superiore Però voi avete capito Chi è Gervaso? Io sono me stesso Sono quello che sono Con i miei vizi, le mie virtù, le mie debolezze I miei pregi Le mie idiosincrasie Le mie fobie Io sono quello che sono Un impasto di bene e di male Di carattere, di temperamento Ma anche di cedimenti Sono quello che sono Ma soprattutto sono soddisfatto di essere quello che sono E questa la dice già lunga Evidentemente guardandosi indietro Perché Cara Pulitzerina Cara Pulitzerina Quello che io sono oggi Oggi io sono quello che sono Perché ieri sono stato quello che sono stato Questo aforismo Questo aforismo me l'ha scritto adesso L'ha pensato adesso Oppure si è scritto già nel suo libro Perché questo me lo sono perso A proposito di aforismo Questo me lo sono perso Lo è estemporaneo È estemporaneo Segnatelo Segnatelo adesso Nella prossima edizione Nella ristampa Benissimo Lo mettiamo Lo aggiungiamo Perché ognuno è quello che è Io nella vita ho avuto molto successo Che ho pagato Perché io ho un'Iliade Uno zodiaco di acciacchi Io ho tutto Meno le doglie Io ho avuto tutto nella vita Tutto nella vita Vero? Oh tu vuoi la prossa Deci anni fa Due bypass Una depressione che l'accompagna un po' Tre depressioni L'ultima spaventosa E ho avuto E ho una moglie Che è la cosa più bella del mondo Perché? È molto bella Vedete una cosa di mia moglie Una Ne abbiamo due Perché Gervaso Adesso torniamo ad essere un po' più seri No, no La serietà La serietà Le fa male al cuore Non è che mi fa male al cuore È mancanza di humor E qua la volevo portare Perché il cinismo Che avvolge le pagine Della sua ultima fatica Ma che brava che lei Ha sentito? Guardi che è italiano La vita è troppo bella Per viverla in due Perché vi dico Mi piaceva smascherarla Perché è un uomo Un uomo che dedica un intero capitolo Al matrimonio Un intero capitolo Ha un nome preciso Che è sua moglie Che la sopporta da tanto tempo Poi Gervaso mi perdoni Ma io sono moglie Ma guardi che io faccio di tutto Per rendermi insopportabile Ed è uno sforzo enorme Ma non se la toglie di torno Perché è una donna bellissima Straordinaria Guardate che cos'è Vittoria Gervaso Immaginiamo quando l'ha sposata Che sembra vicino a un profugo Che sembra vicino a un profugo Eh no 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 È bellissimo lo stesso Tutti i due siete veramente straordinari Io credo E le ho chiesto in separata sede Ma quanto ama sua moglie Roberto Gervaso Guardi io Quando la guardo Quando la sogno La amo Quando mia moglie sta zitta La temo E quindi io non la posso Perché non c'è niente di peggio Guardi La cosa peggiore E già brutta È quando uno ha un ricevimento Ha una cena Guarda per sbaglio Perché io guardo sempre per sbaglio le altre donne Per sbaglio E la moglie dice E la moglie dice A mia moglie Una moglie qualunque Dice a casa faremo i conti E in quel caso Io vado a dormire in albergo Ecco Diretta non si tira proprio Quando però Mia moglie tace I silenzi di mia moglie Sono dei plotoni di esecuzione Qual è la punizione più grave Che le ha inflitto sua moglie? La punizione è un silenzio prolungato Per tre giorni Tremendo Un silenzio prolungato Per tre giorni Rendendosi assolutamente indecifrabile Non mi telefonava Né io Io Ho molto orgoglio Pochi soldi Ma molto orgoglio E io ero preoccupato Perché io Mia moglie potrebbe Stare senza di me Adesso poi Le piace Malone Malone Quello di senza traccia Io non potrei stare Senza mia moglie Scusate ma Se è uno Che ne ha fatte di cotte e di crude Non potrei stare Senza mia moglie Che se dicessi a mia moglie Lasciamoci Lei resterebbe subito vedova Ecco perché sarebbe morto il giorno dopo Lei No subito Che giorno dopo Mia moglie è una donna d'azione Senta Gervaso Questo futuro che lei teme Come lo vede? Glielo posso chiedere Pensi che volevo partire da questa domanda Questa intervista E lei mi ha trascinato altrove Ma guardi Anche questo presente Non è che mi piace Mi piace molto Anche questo E sono notato Il presente non esiste Perché dopo che io le ho detto Detto eh L'ultima parola che ho detto È detto È già Passato Passato Il futuro Si invera nel presente Che passa subito Quindi non esiste Nel presente Né il futuro Nel presente Nel futuro Esiste solo il passato Io il futuro Lo immagino come Un supplemento Una fetta Del passato Non so cosa sarà Del mio futuro So soltanto Che Il futuro Mi Da una parte mi incuriosisce Mi intriga Dall'altra No Poi lo accetto anche il futuro Perché nella vita Vedete Io un giorno Mi trovavo a New York Passavo davanti a un centro Per la redenzione Degli alcolisti Ora io bevo solo Acqua Nei momenti spericolati Che ci mette dentro? Acqua frizzante Ah benissimo Normalmente bevo acqua A temperatura ambiente E liscia Bene Però ogni tanto E c'era scritto Sul frontone Di questo Di questo Di questo Di questo centro Dio Dammi la forza Di cambiare Le cose che posso Cambiare Di accettare Quelle che non posso Cambiare E di E l'intelligenza Di capire la differenza Fra le une E le altre Io nella vita Ho avuto tanti successi Ho avuto tanti rovesci Non ho mai subito niente Ma ho sempre accettato tutto In modo reattivo Quindi il futuro Io so benissimo Quale sarà L'esito Del futuro Non so se la morte Sia un ponte O un abisso Però sono sicuro Io che sono Un laico Un agnostico Io non sono ateo Perché gli atei Sono degli sventurati Delle persone aride Persone Persone Spregevoli No Dica così Perché bisogna rispettare Anche la loro opinione No Io Questo non è buonismo No 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 Mi perdono di Gervaso Questo è un modo di dire Voi la pensate in un modo Io la penso in un altro Non conviene No senta Io sono l'antibuonista Per eccellenza Eh l'abbiamo visto E ce ne rendiamo conto L'antibuonista per eccellenza L'ateo è un povero di spirito È un povero di mente Ammesso che esista il vero ateo Che non ha dei momenti Non può non avere Anche l'ateo più ateo Non può avere dei momenti di dubbio E lei in che cosa è agnostico? Io sono agnostico Io non ho nessuna Non ho delle prove Non sono in grado Di dimostrare l'esistenza di Dio Non sono in grado di dimostrare L'inesistenza Sono però convinto Che c'è un orologiaio Un grande architetto E che io sono una scintilla Del cosmo Chi ha fede lo chiama Dio Quest'architetto lo sa Quindi è molto più vicino probabilmente Sì però io non mi riconosco Nelle gerarchie che rispetto Di tutte le fedi religiose Di tutte le fedi religiose Però sicuramente in me c'è una scintilla Come c'è in lei Come c'è in tutti Come c'è anche C'è anche nel Pippo Civati Uno che si chiama Pippo Civati Che poi è una bravissima persona Ma lei capisce Che in Inghilterra C'era Winston Attenzione che qui ci sta Guardi Gervaso Che tutto quello che dice Poi verrà usato contro di lei Lo sa dagli altri Quando queste cose escono fuori Si prepari Si prepari quindi A confiutare quanto dice Ho molta stima Di Pippo Civati Però Uno che fa Pippo Si chiama Pippo Civati Io gli ho consigliato Di chiamarsi Giuseppe Lui per qualche tempo Si è chiamato Giuseppe Ma Mettiamoci Anche la Pinotti Che è ministro della difesa Oh poverina Ce n'ha pure per lei Sì La Pinotti Cioè Madia Che sembra una di quelle studentesse Che hanno fatto il compito Di maturità E alla fine Escono dalla scuola E la giornalista Con il gelato Dice Ma dai scelto il tema Di Tacito Il tema di Cicerone No capisce No no parole Senta Gervaso Bisogna chiamarsi Winston Churchill Gervaso stia a sentire Visto mi ha portato Nei palazzi della politica Nei palazzi della politica Lei non le manda a dire Otto Bismar Il capitolo della politica Tra i suoi eforismi È dissacrante Perché secondo lei Il cinismo è la chiave di lettura Di una realtà Che non concede sconti a nessuno In politica Bisogna essere cinici Il cinismo è realismo C'è una ragione C'è una ragione Uno Stato Uno Stato Si regge Anche sulla ragione di Stato La ragione di Stato È una cosa Terribile Atroce Sanguinaria Ma lei pensi E questo Può essere giudicato Da un santo Può essere giudicato Da una bestemmia Ma scusi Cosa sarebbe successo Siamo Siamo pratici Cosa sarebbe successo In Cina Se Deng Xiaoping Non avesse ordinato Ai carri armati Di sparare sugli studenti Sarebbe scoppiata Una rivoluzione Gervaso Capisco il cinismo E la lettura realista Della vita La ragione di Stato La ragione di Stato È spaventosa Attenzione Però rendiamoci conto Rendiamoci conto Che stiamo parlando Comunque Questo mi creda Non è buonismo Stiamo parlando comunque Del sacrificio Di tanti Grazie al quale Sicuramente il mondo È stato costruito Però A limitarci a questa lettura Della vita Credo che non si andrebbe Molto molto No no Io parlo Mi perdoni se glielo dico Io non parlo da uomo Parlo in questo momento C'hai peli sul cuore vero E lei Lei non è solo cinismo Questa è crudeltà Quasi mentale A questo punto La politica è macchiavelli Purtroppo Purtroppo lo dico Purtroppo lo dico La politica è macchiavelli La ragione di Stato Il Pearl Harbor Pearl Harbor Il 7 Domenica Domenica 7 Dicembre del 41 Quando gli Stati Uniti Decisero di entrare in guerra Pare che Churchill Ci furono degli intralci Burocratici Per impedire All'ambasciatore giapponese Di consegnare la dichiarazione di guerra Questo pare Pare Che Churchill Che Scusi Che Roosevelt Lo sapesse Pare che Roosevelt Lo sapesse E dato che l'America Era isolazionista In base alla La dottrina di Moro E non voleva intervenire In una guerra L'America Temendo L'America I grandi poteri americani Che sono poi quelli E' un sinedrio Di persone Senza scrupoli Senza coscienza Sono quelli Che mandano Dai tempi Dai tempi Delle Guerre puniche Ma anche prima In poi Ci sono sempre state Le guerre Che sono una cosa Spaventosa Ma se ci sono state Vuol dire Mi dispiace tanto Per Rousseau Che l'uomo Non è buono Certo la società La religione E cercano Di migliorarlo Ma l'uomo Guardi due bambini Che giocano Uno ha due giocattoli L'altro Non ne ha nessuno Quello che ha due giocattoli Se li tiene per sé Bisogna essere realisti Il mio cinismo E' solo realismo Che io poi Lo deplori Lo deplori Perché poi c'è una cosa Io Qui Un conto Fare il discorso Politico Perché basta vedere Quello che succede Scusi Basta vedere Quello che succede E poi Un conto È il discorso Dei rapporti umani Io nei rapporti umani Non sono cinico Sono realista però Non mi faccio illusioni Su nessuno Non mi faccio illusioni Su nessuno Neanche su me stesso Però quando parlo Di politica Dico le cose Come stanno E noi glielo lasciamo dire Roberto Gervaso Ha sconvolto Tutti i programmi Di questa intervista Andate a leggere Vi prego La vita è troppo bella Per viverla in due Perché è il modo migliore Per desiderare Di avere un compagno O una compagna Accanto a sé Questo è Roberto Gervaso Grazie di cuore Ce ne andiamo dai medici Che fatica Ma che bellezza Che brava che sei Che brava che sei